Ciao amiche e ciao amici, cosa fare se lui ti cerca poco? Ma la strategia migliore sarebbe quella di fargli dei bidoni le volte in cui ti cerca. In questo modo vai a invertire la situazione, perché se lui ti cerca poco ha bisogno a sua volta di essere cercato poco e di essere allontanato, perché altrimenti ti cercherebbe tanto, quindi è come se la sua parte emotiva ti comunicasse questa cosa qua, per cui nel momento in cui lui ti cerca poco tu devi, diciamo, cercarlo ma poi tirarti indietro. Ogni tanto manifesti la tua presenza e lo cerchi, ma l'importante è che quando ti cerca lui tu gli dai bidoni, quindi deve essere, deve crearsi questa cosa qua, che dovete vedervi quando sei tu a cercare lui, quando lui cerca te, anche se lo fa poche volte, tu scappi. In questo modo si crea un meccanismo tale per cui si invertirà la clessitra, sarà lui a tua disposizione e non più viceversa. E tutto questo produrrà rapidamente un coinvolgimento e rapidamente sarà attratto molto di più da te. Quindi, che fare poi praticamente? Se lui non ti cerca, quando aspetti fin tanto che ti cerchi e quando ti cerca poi gli dai bidoni all'ultimo, gli dici magari sì, sì, ci vediamo, per l'ultimo no, guarda, non posso, è subentrato questo e te ne vai. Poi in un altro momento lo cerchi tu e vedi come reagisce lui. Alla fine deve crearsi una situazione per cui sarai tu a decidere quando e come vederlo. E quindi poi potrai intensificare anche questo, perché lui sarà naturalmente predisposto a situazioni di questo genere in cui, diciamo, sei tu a prendere l'iniziativa, sei tu a decidere, sei tu a fare tutto. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e ricevere un video di risposta. In più, se questo video ti è piaciuto, metti un like qua sotto e condividilo con tutti i tuoi amici. Ciao!